Adesso andiamo dalla parte del cliente, siamo il cliente, come riceviamo questa fattura? Guardate come ha cambiato espressione, ce l'ha fatta. Chi la riceve intanto? La riceve lei, il cliente o il suo intermediario? Come abbiamo detto per la trasmissione? Può riceverla chiunque e come? Come la ricevete? La potete ricevere nella vostra posta elettronica oppure se vi siete dotati di quei sistemi la ricevete in quei sistemi dando il codice destinatario. Quindi il codice destinatario è obbligatorio? No. Registrarsi è obbligatorio? No. E sono due cose diverse registrarsi o accreditarsi, mi raccomando perché c'è confusione, ci accreditiamo se utilizziamo quei sistemi o in trasmissione o in recessione e ci registriamo se vogliamo ricevere le fatture in un determinato indirizzo telematico che può essere anche la PEC. Naturalmente io posso essere uno che trasmette tramite PEC ad un soggetto che trasmette col codice destinatario e viceversa. Io trasmetto tramite PEC, però il mio cliente ha un codice destinatario, metterò il codice destinatario. Viceversa, io ho un codice destinatario, il mio cliente riceve nella PEC, inserisco la PEC nel file XML e compilo il campo del codice destinatario con i sette zeri, poi da me partirà tramite il mio codice destinatario, ma non rileva in fattura, non è un indirizzo telematico in quel momento, in quel momento è chi sta trasmettendo. Ok? Dico magari banalità, ma abbiamo chiare, non c'è coincidenza in questo senso. Allora, la ricezione perché è importante? È importante perché dobbiamo ricevere la fattura, ma ai fini IVA perché è importante? Sapete che la ricezione è importante ai fini IVA perché determina il momento in cui sorge il diritto alla detrazione. Prima abbiamo parlato dell'emissione, ve l'ho detto, quante volte l'ho ripetuto, la data dell'emissione, perché era importante perché lì sorgeva il debito IVA, alla data dell'emissione sorge il debito IVA, alla data della ricezione sorge il diritto alla detrazione, questi momenti possono non coincidere, evidente, perché abbiamo detto che ci vuole del tempo a fare tutta sta roba, quindi potrebbe non coincidere, quindi il mio diritto come fornitore, il mio debito, scusate, potrebbe sorgere oggi e il credito al mio cliente potrebbe sorgere fra due giorni. Per cui è importante che avete chiaro, utilizzando questi strumenti, qual è il tempo di riferimento, quando la fattura si considera ricevuta e ve lo dice il sistema che usate. Se utilizzate la posta ci sarà una data che è indicata dal sistema di posta elettronica, oppure gli altri sistemi hanno dei response, delle date che indicano questo momento, voi dovete far riferimento a quella data. Se ve la mette a disposizione, se non riesce a consegnarvela alla PEC o al codice destinatario e ve la mette a disposizione, la data di ricezione sarà il momento in cui voi andate a prenderne visione, quindi il momento in cui entrate nell'area riservata e scaricate la fattura. In quel momento per voi la fattura è ricevuta. Ok? Questi sono i momenti. Conservazione, ve l'ho già detto anche prima, conservazione delle fatture per forza in formato elettronico. L'agenzia delle entrate vi mette a disposizione un servizio per conservare le fatture. Per utilizzare questo servizio dovete aderire, semplicemente aderire. Avete un'area riservata a tutti, avrete una serie di servizi, adesso ve ne parlerà il collega, i servizi che avete a disposizione. Tra questi servizi c'è quello di conservazione, aderite, tutte le fatture che passano tra il sistema di interscambio vi vengono conservate e questa conservazione vale sia ai fini fiscali che civilistici. È un servizio utile, soprattutto ora che magari non tutti si sono rivolti già a un provider per conservare le fatture, quindi è un servizio utile. Se emesse che ricevute, tutto quello che passa per il sistema di interscambio vi si chiede solo di aderire, potreste anche decidere dopo e allora le fatture che avete ricevuto fino ad allora, però le dovete caricare manualmente, perché dal momento in cui aderite tutto quello che ricevete o trasmettete in futuro vi viene conservato. Valutate voi se usarlo o utilizzare un servizio esterno. Intermediari. L'abbiamo detto prima, no? Possiamo trasmettere e ricevere anche utilizzando la figura di un intermediario. L'intermediario però potrebbe anche utilizzare tutti i servizi che vi hanno messo a disposizione, che adesso vedremo meglio. Anche il servizio di registrazione può essere un intermediario che lo usa per voi. Qui vi ho fatto un riepilogo, perché mentre per la trasmissione e ricezione può essere chiunque, potete farle ricevere e trasmettere da chiunque, per utilizzare tutti gli altri servizi vi dovete servire di un professionista abilitato e delegato. Quindi ho messo alcuni, ma sono tutti i servizi che mette a disposizione l'agenzia delle entrate. Quindi un professionista abilitato e delegato, la delega o la portate all'ufficio territoriale come facevate prima o c'è anche un servizio di delega nell'area riservata. C'è un modulo che potete compilare per delegare l'intermediario. I servizi vanno studiati, dovete entrare lì nella vostra area riservata e smanettare come si dice, andare a studiare, vedere qui posso fare questo, qui posso fare quell'altro. Anche questo sarà dispendioso, all'inizio vi richiederà tempo, questo sì, però se lo fate magari dopo vi aiuta, trovate qualcosa che acceleri il processo. Trovate servizi utili probabilmente. Questo va bene un riepilogo della facciata che vedrete. Operazioni con l'estero. Le abbiamo lasciate fuori. Adesso anche questo farà arrabbiare perché le operazioni con l'estero dovevano essere comunicati entro la fine del mese successivo, un piccolo spesometro mensile. Quindi, no, no, e sì, e rimane l'intrastat, ve lo dico, così vi arrabbiate ancora di più. E giuro che anche questa non l'ho scritta io. È così. Questa è la semplificazione. Non è questa la semplificazione. È assolutamente vero che non è questa la semplificazione, ma saranno le semplificazioni che poi arriveranno. Arriveranno le semplificazioni perché con tutto questo dispendio di tutto, di energie, di soldi e di tutto, dovranno per forza arrivare le semplificazioni. Ma sono già emerse anche in questi seminari tante cose che dovranno essere semplificate, tante norme, altre norme, non prettamente fiscali o norme che nascono con l'idea della carta. Il protocollo delle fatture di acquisto dell'articolo 25, protocollare, vi ho detto che la fattura XML è immodificabile. Come faccio a protocollare? Protocollo, un'altra di quelle cose, che è legata alla carta, come tante altre cose, che dovranno modificarsi. Quando vedremo che certe cose non si incastreranno, le faremo presente e le faremo modificare. Questa del protocollo, per esempio, è una delle prossime, perché non si potrà continuare a scrivere questo 20, però ora la norma c'è e io ve lo devo dire che ora la norma c'è. Come facciamo a protocollare le fatture di acquisto? Dobbiamo creare anche solo nei nostri registri, tramite le nostre contabilizzazioni, un collegamento univoco con quella fattura. In tanti modi, vedete voi, attribuitegli voi un numero progressivo, lo mettete nel vostro registro per individuare quell'XML, oppure mettete il numero che viene attribuito al file. Ogni file XML ha un nome, meno, che univoco solo quel file ce l'ha. Potreste voi indicare nei vostri registri quello, trovate voi il modo che vi è più congeniale, perché io mi rendo conto che questa cosa è una cosa disueta, è una cosa che prima o poi verrà eliminata, ma ora c'è e la dovete fare. Stiamo collegati? Abbiamo quasi finito. Vi dico solo le operazioni con l'estero, finisco, perché poi dobbiamo dare la linea, poi io sono qui e mi potete distruggere, però vi devo dire ancora un paio di cose. Operazioni con l'estero. Quindi ad oggi, non essendoci un obbligo di fatturazione elettronica, i dati di queste operazioni, parlo principalmente delle operazioni intracomunitarie, principalmente, ma anche i servizi extra web, laddove c'è una bolletta doganale, non dovete fare la comunicazione, ok? Per tutto il resto dovete fare una comunicazione mensile entro la fine del mese successivo, oppure, come alternativa, invece di fare questa comunicazione massiva, voi potreste anche creare dei file XML come una fattura elettronica, con tutti i dati della fattura, mettere nel campo codice destinatario 7X e in questo modo voi comunicate i dati di queste operazioni attive all'agenzia delle entrate. Quindi di queste operazioni non farete la comunicazione, ma se avete delle operazioni passive, poi le dovete comunicare entro la fine del mese. Quindi questa è un'alternativa che io vi dico, perché esiste, valutate voi se seguirla, se dite, tanto io c'ho un sacco di operazioni passive che poi devo comunicare a fine mese, ignoratela, fate questa comunicazione mensile e siamo a posto così. Quella è la regola generale, per ora c'è questo adempimento, ok? Cos'è partito da luglio? Sono stati prorogati i carburanti, però il netting è partito, non so se qualcuno fa netting. Il netting riceverete fatture elettroniche, queste vanno conservate elettronicamente, ok? È partito anche il subappalto, subappalto o subcontratto nei confronti di appaltatore della PA. Gli appaltatori della PA già fanno fattura PA, già la fanno alla PA. Il subappaltatore o subcontraente nei confronti dell'appaltatore deve fare fattura elettronica dal primo luglio. Quali sono questi subcontraenti? Che non si capiva a chi è che dovesse ricadere nell'obbligo e chi no. Sono quelli che l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante, perché c'è un obbligo di comunicare chi sono i propri subappaltatori o subcontraenti, subfornitori. Per individuare chi vi ricadeva e chi no, l'agenzia ha dato questa comunicazione, ha detto quei soggetti che mettono cig e cup in fattura, quindi se già mettete cig e cup in fattura vi dovete porre il problema. Intanto in che stadio sono della filiera, cioè fatturo direttamente all'appaltatore o sto per caso fatturando a un subappaltatore, a un subcontraente? Vi dovete porre questo problema, perché se fatturate in qualità di subappaltatori all'appaltatore, fattura PA. Se siete subcontraenti che fatturate all'appaltatore dovete capire se la vostra fornitura serve per l'appalto verso la PA e quello ve lo dice il vostro cliente, il vostro appaltatore. Vi dice lui se vi ha comunicato alla stazione appaltante, se non vi ha comunicato perché voi fate una fornitura per altre cose oppure una fornitura che potrebbe essere utilizzata sia per quell'appalto che per altro, voi non avete l'obbligo. Dovete andare a indagare, chiedere e capire se ricadete. Non so se vi riguarda ma questa è la regola che ci hanno dato. Grazie. 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 Grazie.